Eccoci con Sara di nuovo. Ciao Sara, bentornata. Allora, oggi parliamo di Instagram e di cosa pensa una ragazza quando riceve l'ennesimo messaggio standard. Io dicevo una cosa ai ragazzi quando li formavo per andare a conoscere ragazze al vivo. Se voi usate una frase standard, la ragazza si sentirà una delle tante, una delle altre, perché lei capisce che non l'hai osservata e quindi dice, ci ha provato con me, con lei, con quell'altra, con quest'altra, non ha un gusto definito. Copia e incolla. Esatto, no? E quindi si sente un'etichetta comune. È vero, sì, assolutamente d'accordo. Proprio la prima cosa a cui ho pensato, quando ricevi un messaggio proprio tipico, uguale, dici, vabbè, ma questo manco ha visto le mie foto, probabilmente. Ha visto che sono una femmina e ha mandato il messaggio copia e incolla, perché devo spendere del tempo se lui non si è neanche applicato a scrivermi qualcosa di più elaborato, ecco. Quindi chiaramente non ti fa venire voglia di rispondere. E tu ricevi messaggi standard su Instagram ogni tanto? Più qualche anno fa, sì, ma ciao bella. Ciao bella, cosa mi significa? Cioè, potresti iscriverlo anche a mia zia, nel senso, non mi significa niente. Oppure, vabbè, poi per non parlare di quelli che entrano con la foto dei gioielli di famiglia. Pazzesco. Cioè, lì proprio si arriva agli apici che dici, ma io non te l'ho chiesto, a me non interessa, nel senso. Ma erano tanti? No, però capitava qualche volta, sì. Pazzesco. Io non capisco cosa faccia scaturire questa idea. Anzi, è una molestia a tutti gli effetti, perché io sinceramente non voglio vedere, non te l'ho chiesto chi sei. Ma questi agiscono con un profilo, diciamo, fake? No, no, è la cosa divertente, che quando mi è capitato erano profili veri. Normali. Cioè, quindi per loro è una cosa del tutto normativa farlo, cioè non si vergognano neanche. Cioè, per loro è normale, questa è la cosa da psicopatici. Incredibile. E poi voi dite che non c'è bisogno di play lover. No, rieducazione sociale. Esatto. Delle scuole dovremmo essere, ok? È lo Stato che sovvenziona il servizio pubblico play lover. Questa roba qua dovremmo fare. È vero. Play lover public service. Fine. Allora, generalmente questi uomini sono più grandi o sono più ragazzini? Mi ricordo quando mi capitava che fossero comunque o dei miei coetanei o poco più grandi. Non so, io avevo vent'anni, ventun'anni e si aggiravano poco più grandi di me o intorno ai ventun'anni. Quando invece tu senti che il messaggio è originale? Quando ha un'aderenza e una connessione con qualche storia che hai pubblicato, con qualche tua foto, con qualcosa che hai scritto nelle diascalie? Ma sì, banalmente rispondi a una storia con una frase divertente e mi fai ridere, che è la cosa poi più importante. E mi dici qualcosa di originale, riferito a una storia, a un qualcosa. Attiri la mia attenzione sicuramente. Cioè, quello che poi magari non nasca niente, però mi viene da risponderti. Quindi sì, qualcosa che riguardi me. Io ho l'idea che se una ragazza ride, abbassa anche quelle che sono le sue barriere di difesa ed entri molto più in connessione facilmente. Sì, assolutamente. Perché hai fatto il primo passo in maniera positiva. Sì, sì, hai già creato una vicinanza emotiva alla fine. Esatto. Sì, sì, sì. E papà, qualcos'altro che ti ricordi che magari hai bannato immediatamente su in termini di comportamenti su Instagram oppure che hai approvato proprio in maniera immediata nel tuo trascorso? Vabbè, approvato in maniera approvata appunto, non so, una battuta magari anche stupida, però che mi ha fatto ridere tantissimo. Basta, cioè io ho risposto subito. Ad esempio, ecco, il commento sotto una foto, un commento diciamo molto intelligente e poi la stessa persona ti scrive in direct. Perché no? Se il commento è azzeccato, mi prende, sì, va bene. Ok. E altra cosa per chiudere, aspetto diciamo estetico versus vita, verso interessi, verso passioni, cioè dove tu sei più propensa a dare una risposta, no? Perché se tu fai un apprezzamento su aspetto fisico, quello riescono a farlo tutti perché è visibile. Sì, sì, sì. È facile, no? Invece la parte più complessa significa leggere, interpretare, capire il profilo, quindi la personalità e fare un commento, mandare un messaggio sulla personalità. Esatto. E chiaramente è difficile farlo a primo impatto perché tu alla fine sui social vedi le foto. Però se, non so, segui quella persona da tanto tempo, ha fatto qualche storia in cui parlava, raccontava qualcosa, puoi agganciarti al fatto di averla conosciuta un po' dietro anche a quegli schermi e apprezzare la creatività, non so, la bravura in qualcosa. Non so, magari una fa skate e dice, aspetta, sei brava? Cioè, insegnami. Apprezzare la ragazza più per quello che dice, che fa, perché per quello che è, perché quello lo sanno fare tutti. Perfetto, abbiamo detto tutto. Adesso vado con Daniele che mi vuole offrire un caffè. Un saluto.